Le tre France titola oggi Liberation. Sarkozy vince Marine Le Pen a di che essere soddisfatta e socialisti non resta che leccarsi le ferite ma poteva andare anche peggio. I francesi tutto sommato non hanno disertato le urne in queste elezioni per i circa 100 consigli dipartimentali, qualcosa di simile alle nostre province. Si temeva un tasso di astensionismo superiore al 50% e invece l'affluenza è in risalita rispetto alle europee dell'anno scorso. Il ritorno di Sarkozy, dicevamo, è una delle chiavi di lettura di questa elezione. L'alleanza del suo partito, l'UMP, con i centristi ha portato l'ex presidente della Repubblica a riconfermare la quarantina di dipartimenti che la destra deteneva e ad avere ottime probabilità di conquistarne almeno un'altra quindicina al ballottaggio della prossima domenica. Ma il Front National di Marine Le Pen esulta comunque. Non è arrivato al 30% che gli prospettavano i sondaggi ma, escluse le coalizioni, come quella tra neogollisti e centristi, è davvero ormai il primo partito di Francia. Supera il risultato delle europee e, come dice la Le Pen, si sta lentamente radicando sul territorio. È persino in testa nelle Côte d'Armor, un dipartimento che la sinistra governava da 40 anni. In attesa ormai è chiaro delle presidenziali del 2017, dove la figlia del fondatore del partito spera di arrivare almeno al ballottaggio e poi chissà. Intorno a lei e al Front Nazionale già scattato all'operazione isolamento, i socialisti che arrivano terzi e quindi inanellano un'altra batosta, anche se meno pesante che alle europee, hanno già invitato gli elettori di tutti gli altri partiti a coalizzarsi al secondo turno. «Votare chiunque, insomma, di destra o di sinistra, che sia contrapposto ai candidati del fronte». Lo ha fatto in particolare il primo ministro Manuel Valls, già dopo il primo exit poll di ieri sera, attirandosi le ire della Le Pen, che ha invitato François Hollande a licenziarlo in tronco, visti i risultati non brillanti. «Lo sanno tutti che resterò al mio posto», ha risposto Valls. Ma fa già discutere, spacca la politica francese e l'atteggiamento di Sarkozy, che invece si è attestato su una posizione che i giornali definiscono di «ni-ni». ha chiesto ai suoi simpatizzanti, insomma, di non votare ai ballottaggi né il fronte nazionale, ma nemmeno i socialisti, alla faccia dell'unità nazionale contro la dama nera.